ciao a tutte ragazzi bentornate e benvenute sul canale ma soprattutto in una nuova wiki l'outfit lo so che non ci speravate neanche più perché con tutto quello che ho comprato direi ma quando mai ce lo farò vedere indossato o mai ce lo farò vedere indossato beh la risposta è questa è cambiato il tempo e ce l'ho fatta a mettermi qualcosa anche di più più pesante sicuramente questo arriva direttamente dal video buono mi ricordo quello degli acquisti di zuiki perché questo è di zuiki ed è il giubbottino in ecopelle da 15 euro effetto cos'è coccodrillato che oggi è venuto particolarmente bene perché siamo in allerta meteo lo so non dovrei ridere di questa cosa è una cosa molto stupida ovviamente perché le allerte meteo vanno sempre prese assolutamente molto sul serio però io non vedevo l'ora sono morta sono stata talmente male ma talmente male con questo tempo incredibilmente pazzo e orribile quella fa incredibile qui 40 gradi in casa che per me questo questo cambio di temperatura è stato la manna dal cielo a livello di sopravvivenza quindi io niente io non sono una d'estate ve l'ho già detto anche nei video haul però cioè sono stata proprio male 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 a livello di svenimenti ed impressione talmente bassa da svenire quindi per me questo è l'unico clima vivibile o comunque temperature più miti ovviamente quindi spero che dopo questa ondata di maltempo ci sia una ripresa ovviamente del caldo perché se no iniziamo già adesso diventa proprio pesante e troppo lunga però sinceramente spero che le temperature si abbassino notevolmente quindi ritornando a quello che erano i nostri acquisti allora questa è una maglia che io avevo già preso tempo fa adesso vedo se riesco a farvi rivedere ma no ovviamente in questa inquadratura non ce la faccio quindi vediamo un attimino se riesco a farvi capire che cosa ho sotto perdonate il casino sotto ho i leggings di The Zenith i leggings oddio loro li chiamano pantaloni al pinocchietto perché ha quelle diversamente alte come me stanno come pantaloni che arrivano alla caviglia cioè dove mi piace a me altrimenti alle altre stanno corti a delghietto quindi e vabbè niente io stamattina ero molto 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 soddisfatta del mio outfit soprattutto di mettere il giacchino di nepe in ecopelle con quella bella bellezza frescolina ma lo so che non sono normale comunque ci vediamo domani ok sperando che il tempo consenta di mettere qualcos'altro di simpatico ehi secondo giorno week in outfit oggi prosegue il tempo un po' un po' di cacchina chiudo un attimo la porta finestra perché se no si capisce una fava però vedete com'è vedete si capisce oggi anche attraverso la zanzariera che è un po' così matto e io ovviamente ne approfitto per tirare fuori una bella giacchettina questa qua è quella di candida che vi ho fatto vedere dentro non è foderata spessa è proprio la mezza stagione più anche estiva sicuramente non è un tessuto spesso da utilizzare in autunno inoltrato e in inverno ora perfetta praticamente i jeans che avevo questi erano di Stradivarius sono una collezione vecchissima con le perle scusate il casino sempre che avevo trovato dopo averli visti addosso a Serena Special Size li ho trovati su Vinted ce ne erano un sacco oltretutto ancora col cartellino quindi va benone questi li avevo pagati veramente una stupidaggine 5 euro e sono veramente bellissimi questi sono un modello mam che a me non fa impazzire proprio come mi sta però ho notato che se li risvolto e ovviamente mi metto una scarpa un po' più alta mi piace di più anche l'effetto ed è molto più simile come è l'effetto che mi piace vedere addosso agli altri quindi direi che a me piace moltissimo un po' sportiva un po' no molto molto confortevole come abbinamento sotto una maglietta semplicissima manica corta nera in cotone che ho messo dentro e poi queste puma che io ho già da tre anni mi trovo stra bene hanno un platform integrato a discesa quindi un pochettino più alto sotto al tallone sono veramente super 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 confortevoli e oltretutto si prestano anche diversi abbinamenti e niente vado a lavorare ciao buongiorno benvenuta al terzo giorno di Week in Outfit che nel frattempo si è anche secondo me un po' trasformata in una sorta di challenge della serie una scarpa per sette giorni perché sono già tre giorni che utilizzo sempre la stessa scarpa con abbinamenti diversi oggi è quello che mi sono inventata per stamattina che c'era di nuovo freschetto bello umido ha piovuto durante la notte però sembrava che dovesse uscire il sole infatti stamattina ero al mare veramente in quel stato di grazia meraviglioso oggi di nuovo quel giubbino di ecopelle che vi ho fatto vedere anche lunedì questa maglia invece è tipo in microfibra l'avevo presa da Shane forse all'inizio dell'estate comodissima da utilizzare esattamente quello che avevo in mente era proprio questo utilizzarlo con questi pantaloni che non hanno le taschine che sembrano più dei leggings che dei pantaloni e questi sono quelli di di Ted Zenith che adoro e ho in due paia giusto perché perché li sfrutto di brutto allora e queste le solite puma mi piace questa cosa che comunque queste scarpe siano veramente versatili perché è un po' più femminile ovviamente sempre sportiva perché non mi sembra il caso di metterle su un vestito non ce la vedo sotto un vestito non ce la vedo né sotto un vestito né sotto una una gonna almeno quelle che uso io che sono quelle al ginocchio plissettate però così mi piace un sacco con la tuta con i pantaloni più larghi un po' da maschiaccio con i pantaloni più stretti mi piace un po' vederla in diverse in diverse salse cosa ne dite? comunque adesso la giacca me la tolgo perché è uscita un'umidità veramente pazzesca e sto schiumando quindi ci vediamo domani qua il tempo come potete vedere è peggiorato di brutto sta arrivando la bufera e perdonate i vetri non bellissimi poi oltretutto c'è anche la zanzariera dietro che quindi sembrano sia ancora siano ancora più sporchi di quello che sono ci vediamo domani e buongiorno quarto giorno oggi di Week in Outfit e continua la challenge che è diventata una challenge nella challenge nel frattempo quindi una settimana con gli Outfit con la stessa scarpa e in effetti è diventato anche Outfit in bianco e nero e un cicino di colore quindi proprio un accenno di colore oggi un pantalone a sigaretta di Tezenis vecchio come Bo come Mattusalemme erano stracomodi questi qua lo sono tuttora e mi piacciono un sacco io li sfrutto un sacchissimo questi sono del primavera estate non sono leggeri leggeri come con le a sigaretta però molto molto versatili per più tempo diciamo tutta la primavera e i primi d'autunno io fino a che non inizio a fare il frutto questi mi li metto e sopra questo blazer preso da Candida che vi ho fatto vedere in uno dei come si chiama degli haul gli ultimi che ho fatto con i saldi o forse questo qua l'avevo comprato già prima dei saldi non mi ricordo più sotto questa maglia presa in sconto questa è fiorucci in collaborazione con navapiri una crop a maglietta a manica corta in cotone bello spesso una bellissima resa di cotone e niente oggi è così quindi quattro giorni su sette ce l'ho fatta oggi è una giornata incredibile stamattina vi ho fatto vedere che stava per piovere adesso il diluvio sembra essersi spostato c'è un'umidità del mille per mille però è spuntato il sole a momenti a seconda di dove vi girate qua c'è questa rietta un po' particolare ma tanto questo tempo pazzo ce lo portiamo avanti ancora un po' ci vediamo domani ciao ragazzi buongiorno che giorno è oggi chi lo sa giovedì 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 signo allora oggi per giovedì mi sono praticamente vestita in bianco e nero assolutamente sì questo maglioncino di Primark che sapete io adoro qua ci stava bene anche qualcosina di più corto un pochettino piattillato sinceramente pantalone a sigaretta di Stradivarius io ne ho praticamente due mi sono resa conto dopo averli presi tutti e due ai saldi ne ho preso uno poi me lo sono completamente dimenticato nell'armadio quindi immaginate quante volte l'avevo messo e poi ai saldi successivi ne ho comprato un altro paio sempre taglio 38 sempre uguali sono quelli con lo spacchettino di lato eccole qua le mie belle 5,50 di New Balance che mi sembra che ci stiano veramente benissimo e niente mi piace un sacco questo abbinamento adesso ci starebbe benissimo io avevo un giacchino di quelli mezza stagione che dentro c'è un pochettino di pile però leggero non ve l'ho fatto vedere tipo un mezzo key way perché queste queste temperature la mattina veramente sono geli e qua ancora però ci sta benissimo anche il giubbino in ecopelli vado a prendere Eva e mi sa che mi metto proprio o il giubbino in jeans o il giubbino in ecopelle per andarlo a prendere perché non lo so non mi sento tranquilla io ancora uscire così il maglioncino e basta nonostante ci sia caldo quella temperatura un po' strange che c'è il sole qua ecco capite anche che c'è un vento mica da ridere al sole c'è caldo però poi c'è l'arietta che non ti sai vestire esatto quello che ripeto da più di una settimana sono dalla settimana scorsa e nulla va bene ci vediamo domani hey ragazze sto per andare a lavorare e volevo farvi vedere l'outfit di oggi che mi piace particolarmente anche se ho qualche dubbo su questo pantalone non lo so vabbè a parte che qua mi segna un pochettino la pancetta non è bellissimo quindi vedo un attimo se riesco a un po' meglio boh non lo so mi gioco un attimino con la camicia vediamo un attimo perché finisce che ecco questo è uno dei motivi per cui poi un sacco di vestiti finiscono nell'armadio e mai comprati figo me lo prendo assolutamente l'outfit in testa e poi non li metti perché perché io se siete delle psicopatiche come me noto il minimo difetto e accantono la roba e poi non mi viene voglia di metterla perché magari ho visto quel difetto lì e quindi vado più sulle cose sul sicuro che so che mi stanno bene e via e finisce che poi non li mette adesso non lo so fa un po' di piega boh mi sembra già meglio il pantalone bianco è difficile allora questo è il pantalone bianco che vi ho fatto vedere nell'ultimo haul che l'ho trovato al mercato 10 euro tra l'altro bellissimo molto molto confortevole questo è tipo jeggings ovviamente anche se ha le taschine vere sia davanti che dietro io adesso qua ho fatto la camicia un po' lunga così questa è una camicia vecchissima di Stradivarius ne trovate tantissime se vi piace questa qua ha le righe blu e rosse e col bianco mi piace tantissimo le mie scarpe bianche quelle che mi piacevano di più che ci stavano erano queste anche se hanno il dettaglio nero però mi sembra che nel complesso non ci stiano così male e adesso vi faccio vedere cosa ci metto sopra oggi è una giornata meravigliosa ragazzi secondo me ci sono almeno 20 gradi però c'è arietta siccome io lavoro nel pomeriggio poi alla sera ci sarà freschino quando torno scusate questo scempio guardate che meraviglia e adesso vi faccio vedere un attimo cosa mi metto sopra allora la prima opzione è questa qui questa giacca di H&M che vi ho fatto vedere già in un altro outfit l'adoro ce l'ho da un sacco di tempo ma l'adoro questa è non imbottita ma comunque rifinita dentro rimane un po' più spessa mezzo blazer mezzo bomber cioè più che bomber più taglio un po' più gritto con le tasche è quella giacca via di mezzo che vi salva diverse situazioni però cosa c'è che non mi convince tanto guardate un po' al sole si vede il colore vero della giacca è un rosso più sull'aranciato mentre la camicia è più sul rosso proprio Valentino quel rosso proprio bello bello scuro la seconda opzione è questa qua ve la faccio vedere la seconda opzione è questa questo è un blazer di Stradivarius di quelli con le maniche arricciate già tirate su come piacciono a me e questo è esattamente il punto di rosso che richiama la camicia non so se ecco se riesco a farvi vedere è proprio lui è dal vivo si vede proprio che è molto più vicino l'unico problema è che questa è molto molto più fresca più leggera quindi non so stasera se se mi prende un colpo non so mi piace però mi piace in entrambi i modi proprio due effetti diversi qua rimaniamo un pochettino più elegantine qua volendo non so se vi da un un'idea ma se avete magari anche una cerimonia a cui dovete partecipare non so intendo una laurea di qualcuno cioè andate come come amica o comunque non parente strettissimo anche un un battesimo diciamo niente di troppo formale ovviamente quelle cose fatte magari in una location proprio informale o a casa della persona direi che questo è un abbinamento assolutamente che vi salva anche diverse diverse opzioni vabbè io mi cervello un po' e vedo un attimino e una delle due metterò ciao ragazze è domenica e io velocissimamente vi faccio vedere come mi sono conciata oggi perché sinceramente mi piaccio particolarmente sto scappando al lavoro allora maglioncino di primark a righe che avete visto in millemila salse pantaloni di stradivarius a sigaretta questi sono in collezione permanente io ne ho due tipi ma mi sono resa conto che hanno due visibilità diverse questo è un po' più morbido e invece l'altro mi rimane proprio adenente a sigaretta non capisco come mai nonostante siano pressoché identici le mie scarpe queste qua sono della puma e sono praticamente quelle che sognano tantissimo anche alle dunk ma sono 50.000 volte più comode queste dettaglio rosso che ho ripreso con la giacca rossa oggi questa giacca qua l'ho presa almeno tre o quattro stagioni fa sul sito di H&M pagata veramente una stupidaggine mi piace tantissimo è una giacca che imita una cioè un blazer che imita una giacchina un po' bomber è un mix di stili che mi piace tantissimo perché può essere utilizzata in maniera più o meno elegantina barra casual e secondo me dà quel tocco in più mi piace tantissimo quando dovete scegliere giacche secondo me andate sul sito di H&M perché comunque sono fatte veramente veramente bene questa ha anche le tasche vere molto comoda se avete i bambini e niente oggi così ciao